buongiorno signori welcome back oggi abbiamo business da fare nel nord africa e nelle colonie però mi sono chiesto perché perché abbiamo fatto partire tra virgolette una opium war in medina quando in medina non hanno l'oppio e anzi hanno il grano in mezzo al mare perché abbiamo fatto una roba del genere in verità l'abbiamo ancora fatta però perché dovremmo fare una roba del genere non lo so facciamo caso puttacaso che ci serve un po di legna in verità in verità si sapete no exported goods ok proprio non ci serve un cazzo our top exported goods non serve proprio niente la linea il wood not in high demand io perché cavolo vorrei mai andare a medina va bene apriamo la possibilità il fatto che io me ne sbatta le palle a medina adesso che ci siamo invece concentriamoci sul nord africa che mi interessa assai di più la spagna va bancarotta e ma figa ma va bene va bene abbiamo preso in sfera noi la scorsa puntata questa puntata chiaramente deve andare in bancarotta è giusto così è giusto così è giusto così non lo so però è giusto allora cosa possiamo aspettarci oggi beh se riesco arrivare quarto tra le grandi potenze delle baruffe in europa nel caso non riesco arrivare quarto nelle grandi potenze delle baruffe nord africa direi che è tutto abbastanza calibrato perfettamente o ecco guardate supply range più 50 per sé 50 per cent allora o miglioriamo l'armata questo sono belle sono tutte belle domande sono tutte domande molto belle sono tutte domande alla quale dovrei dare una risposta ma sono tutte domande alla quale non darò una risposta l'idealismo già ce l'abbiamo l'empiricismo deve essere il 1860 siamo quattro anni in anticipo prestigio in più siamo secondi non ci serve come eserci a noi serve l'industria a noi serve l'industria quindi bread ti sei già cazzo risposto inizia a spammare sta merda di industria va bene ragazzi ascoltano i vostri consigli facciamo un sacco di scoperte che possiamo fare oltre al 5 per cento di out quindi vediamo di iniziare a cagare fuori un po di industria anche per il nostro bellissimo regno di aragon italy ci deve essere stato un equivoco prima forse perché abbiamo fatto partire il gioco in verità di legna ne abbiamo assai bisogno quindi merina stiamo arrivando siamo così arrivati anzi tra l'altro e le navi sono ancora decenti dopo tutto quindi gg fattibile stavo però osservando che noi abbiamo un altro problema ci serve non è non è notato qua ma ci serve sicuramente il settore tessile noi non abbiamo né cotone né probabilmente usiamo la lana degli artigiani delle delle pegure né come si chiama il colorante per fare i vestiti eccetera eccetera ho denotato che madurai invece ha entrambe le cose qua abbiamo un pochino di dyes e qui c'è del cotonize voi direte solo una regione sì ma sono un milione 15 e 650 mila persone quindi immagino che lì faranno le cose puntiamo piano piano a tirare dentro anche loro nella nostra sfera di influenza per farmi mandare quella roba lì anche perché andare a prendere dall'altra parte vuol dire solo o africa qui probabilmente potrei arrivare fino qua per il cotone però ancora mancano i dyes e i dyes sono solo qui comunque sono pochi né dice tiriamo su veramente poco ci sono pochi nel mondo un po' qui in mezzo nel timuristan un po' in mezzo a borgogna guardate un po' la colombia ne alcuni ma non possiamo snitcharla per adesso quindi fino a quando non verranno fuori quelli sintetici dovremmo pensare con la maniera lì comunque a parte l'invasione qui sotto abbiamo anche un'invasione qui sopra senza farmi sgamare sono riuscito a fare the mad concession tripolitania quindi proceed signori siamo di nuovo in guerra per la tripolitania e tutto bene quel che finisce bene o quel che non è ancora iniziato in verità adesso vediamo di giungere vicino a questo posto conquistarlo entrare in porto guardate là delle belle rivolte obstallianto non so dove sia l'obstallia però me ne sbatto le palle così a naso ve lo dico secondo me possiamo timidamente sbattercene le bolas ragazzi che vi devo dire sbarcate alla capitale sta in mezzo alle montagne bella rotura di cazzo però vabbè tant'è l'importante che siano entrati anche qui sopra probabilmente abbiamo già preso tutto andiamo a games andiamo qui vicino a loro decidono loro loro buttano su allora ci vediamo picchiare va bene a me sta benissimo ce l'ha ritirata un attimino non so se strategica questa ritirata qua certo la nostra camminata nel deserto sarà bella lunga adesso loro cercano di driblarci potrei anche pensare di fare così ecco lui si ferma e io tic e intanto vado a tripoli eliminati loro possiamo finalmente conquistare la situa e stiamo quindi arrivando alle porte dell'egitto e anche in egitto è sciacottone in effetti in effetti qui in egitto è sciacottone e noi va bene quindi il cotone lo prenderemo da qua ci manca solo i dice se quelli li faremo a un certo punto sintetici ma tante la mia idea comunque quello di non fare puppet qua conquistare tutto tutta la costa e se a un certo punto gli rimane solo questo o sbattermi nelle palle devo mangiarmi anche questo però niente che ci possa fermare al momento si cavalca l'onda si avanza si investe in ferrovia perché in industria facciamo pena io spero semplicemente che queste robe qua adesso ok qua siamo gli arrivati l'intellettuale al 4% vedo di vedo di spingere per un'azienda del tessile che poi comunque le cose le importiamo e vediamo di farlo perché sennò la nostra è un pochino ferma ed è qua un po' in perdita per il fatto che secondo me non ce n'è molto di quella roba qui insomma devono investire allora adesso non so per quale cazzo motivo i miei sono fissati ero già sul meno giusto sono fissati a dover fare le cement factory che no non servono onestamente cioè è piena e non fa un cazzo consuma roba che ci serve quindi no però voi li comprendete come loro come come ragionano color signori no andi affidiamoci alla provvidenza merina è stata schiacciata e ora appartiene per fortuna perché comunque la si crepava di attrito stiamo tornando indietro abbiamo fatto la cazzata abbiamo vabbè era l'unica opzione cioè sennò avevo sbagliato che sono sbelli no quindi va bene anche così almeno abbiamo la testa di ponte per andare dove voi direte in Egitto signori miei oggi si va in Egitto domanda con session sto giro devo capire però cosa voglio no vabbè sicuramente questo la cirenaica ci dovete dare che è un peccato perché solo un pezzettino e vorrei qualcosina di più della cirenaica però per ora ci siamo fatti beccare in quella roba lì quindi cirenaica sia per adesso proceed e siamo di nuovo in guerra sto giro mi hanno beccato bene quindi quindi si fa poco si fa poco lo spavaldo di mojarabub e fin preso questo qui si continua ad andare avanti piano piano però in verità ho messo un po come il maiale come a livello di di infamia voglio andare sotto il 10 appena siamo sotto il 10 rifacciamo claim magari qui sulla sulla tunisia che è la half seat kingdom per il maghreb anche forse dovremmo dargli un'altra botta quando possibile certo non sono zone che ci interessano proprio in maniera formica ma c'è da tutti che c'è l'alleanza ma c'è nella continua mandata e sembra da fare in culo mi dispiace perché è quello che è però io non posso fare amicizie con tutti se non poi divento meno esclusivo chiaramente della boh mi fa un po schifo da prendere perché la così andiamo a darla non c'è un porto decente che sia uno qua ma tant'è tanto l'egitto non credo abbia delle grandi truppe comunque non potrà fermare il terzo esercito più potente del mondo stiamo per arrivare anche con interchangeable parts io ora sto buttando nel cesso del tempo cercando di convincerli di fare un'industria tessile qua accorgendomi ora che non è l'industria tessile ora mentre ne parliamo io non volevo fargli fare l'industria tessile a questi qua io volevo fargli fare l'industria dell'imbottigliamento a questi qua questa purtroppo non l'hanno fatta in ogni caso mi fanno un posto dove si fa il vino bestemmio la macedonia è rivolta c'è problemi sui ma sì c'è quelle truppe lì adesso gliele secca per il resto ragazzi sono i soliti rompipalle ce l'hanno 27 le truppe loro la tant'è andiamo avanti un attimino con l'industria allora noi serve sarebbe bello avere un sacco di roba beh quella roba qui non è mica male supply limit più c da più produzione population growth e altre robe però a me devo rendere profittibili le fabbriche semi automatization hot blast 40 abbiamo ancora scoperto sì no ok allora semi automatization sì ragazzi solo perché avete suggerito voi mi pappo anche sto pezzettino qua di egito vediamo loro vanno loro attraversano tipo mare di tempesta di deserto per andare a uscire da quelli là sotto jarabubo siamo dato bruco ora ora tutto cazzato incazzato cioè tu mi stai dicendo che io non li vado a fermare io non li vado a fermare se voglio fare il giro con questa armina dietro io mi sposto ben gazzi aspetto che vadano su una zona decente per poi colpirgli alle spalle con questa fanteria qua sicuramente non vado nel matanen sarà a morire non ho idea di quanto tempo si è passato dall'ultima volta che abbiamo picchiato gli anglo francesi ma i provenzani ci chiamano ancora una volta almeno controlliamo un attimo eccolo qua second angle flash vibration no ecco esattamente n'è pas possible e noi ovviamente entriamo e andiamo ancora una volta ad aiutare i nostri amici questa notizia ci arriva ragazzi molto positiva perché le casse dello stato languivano sono andati su degli anarcho liberali non possono piazzare tariffe ma a parte quello andremo a chiedere delle altre reparation ai nostri amici là sopra nel mentre quindi spediamo velocemente l'armata verso nord ancora una volta dall'italia dal centro sud italia le nostre truppe vanno per combattere e devastare devo anche tenere conto allora questa qua è coloniale questa qua no questi sono quelli che aiutano gli assedi che prima hanno preso gli schiaffi nel muso abbastanza potenti quindi questi andiamo a prenderli con la nostra marina principale questi qui invece facciamo uno switch a ru generale ma andiamolo di là e a parte c'è una guerra bohemia contro questi che forse hanno vinto la denubian confederation forse non l'ho persa la paul commonwealth qui sono nella merda sono in guerra anche con chi con i muscoviti gli scandinavi ah interessante interessante forse non interverrebbero se io attaccassi a shanty poi per il resto cosa sta succedendo l'opsfaglia prima sta venendo qua ci manca un po di carbone che volevo trovare da qualche parte però manco con marina lo stiamo aggiustando forse abbiamo risolto la questione del tè a breve quella invece del cotone ancora niente ho dovuto togliere qui la roba di poter fare ma poi adesso che sono sugli narcoliberali non posso vero farmelo su io a guardare se questi sono utili a qualcosa ma che manco al cazzo e stiamo passando un po le ribellioni qua e là per il resto niente di che l'unica roba si va un po in guerra e fine eccoli lì come al solito ormai ormai boh ormai lo dico è come al solito stiamo facendo qualche scoperta qui e là le nostre truppe si avvicinano le navi sono arrivate se ci sarà qualche battaglia carina ve la faccio vedere altrimenti no interveniamo qui a nord a salvare i provenzani partiamo alla caccia della dual monarchia lì sopra abbiamo perso la caccia non siamo arrivati in tempo ma tant'è sembra un po più agguerriti del solito questi dannati anglo francesi vediamo se stabiliscono appena ancora dove vogliamo ho letto lì sotto il diavolo francese ma sì dai un po di prestigio ci da nessuno scappa da assasi oppure tutta la popolazione italia perde un po di militancy militancy non colonia almeno 001 in linea generale ma sì dai facciamo la stacolonia penale che cazzo vorrei dare una mano anche qui andiamo a dare una mano anche lì sopra altra gente nostra che muore gonfia come se ci fossero domani questi saltano dentro danno sempre una mano là sopra qua abbiamo un po tante divisioni forse abbiamo ecco forse agli spagnoli il caso che escano siamo entrati qua in difesa big numeri ho visto li big numeri si sono ritirati hanno preso big schiaffoni mi pare invece è andata proprio bene bene dove sono le nostre truppe di supporto a me non sia queste qua quelle della dell'assedio esatto queste sono truppe d'assedio quindi le andiamo a supportare qua adesso facciamo un attacco congiunto qui e qui olé 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 madonna mia destacchiamoli bam bono morti 7k di loro qui andiamo avanti alla conquista io direi di puntare sempre a parigi e qui provenzani l'ampresione al culo si attaccano anche un po a sta sceppa se posso essere onesto niente andiamo qui sopra stabiliamoci un attimo uno qua intanto che arriva anche qualcun altro perché mi sembra che qua qualcuno sia un po what the fuck berg berg che l'imbecille che ha dato il passaggio a berg per arrivare da noi non c'è più dignità questo mondo dopo un po di fucilare qua e là e loro che sono andate qui sotto a romperci i coglioni ma non prenderanno il resto della roba possiamo finalmente ho già aggiunto le war repression possiamo finalmente andare a chiedere la pace pretenderla e accettano la nostra offerta passiamo da meno 134 a più 323 ancora una volta l'economia del paese è salva grazie a dio che esistono loro che ci danno sempre una mano adesso voglio vedere questi qui come li porti fuori e sbrigati anche che comunque questa non è casa tua anche noi leviamoci dalle palle alla fine dei conti e gigi gigio via fuori del cazzo eh ragazzi qui la situazione è alquanto come si può dire merdosa abbiamo tutte le fabbriche che non producono tranne questa questa cosa non sta andando male sta andando male quasi così in puglia gli schiaffo dentro qualcos'altro adesso appena abbiamo i bridge loader rifle allora tecnicamente mi serve anche mission to civilize che sta qua però se prendiamo prendiamo in organic chemistry possiamo prenderci il deserto la scatola di sabbia nessuno penso abbia fretta di avere la scatola di sabbia però questo qua è una roba buona che si può fare in linea generale però ripeto prendremo una scatola di sabbia tanto è il fatto sta che adesso si punta ve l'ho detto finire a bridge the rifle e poi dopo probabilmente siamo arrivati nel 60 quindi si va di empiricismo per rimanere al passo coi tempi se volete il 40% di scolarizzazione qua lì tra il 6 eccetera eccetera non è mica male anche se forse servirebbe questo allora prima faccio state in governo mentre poi faccio empiricismo e via così intanto l'Austria sta attaccando anche loro questi che sono sempre in guerra non riesco a capire se vincono o perdono perché se perdono non stanno all'effettivo perdente si stanno pure allargando si stanno pure allargando sti qua io li vedo sempre in guerra non mi sembra vincono mai niente ma in verità guarda qua un pezzettino in più The Hafsid Protectorate il regno Hafsid è stata una minaccia per un sacco di tempo al dominio aragonese nel Mediterraneo non mi pare fino a quando Huzayin I formalmente ha deciso di inginocchiarsi davanti ad Aragona ma gli Hafsid sono ancora indipendenti e c'è una minaccia che loro non vengono più considerati dagli altri poteri come backwards come dire insomma come gente che va in giro con i bastoni invece che i fucili e quindi più difficili da annettere senza l'intervento di qualche potenza straniera ma ieri alcune tribù che vivono da una parte o dall'altra dei confini iniziano ad ammazzarsi e in questa battaglia è morto anche un soldato catalano e questa è la scusa perfetta per intervenire e mettere fine a questo stato tunisino indipendente allora io non so se il gioco ti ne conto che qui abbiamo un piccolo problema noi abbiamo circondato penso se non so neanche su collegati beh non lo so bene cosa sta succedendo io ora è ora di finire quello che abbiamo iniziato io spero che li possiamo annettere perché se 5 infami per poi metterli come puppet così schifoso mi viene un colpo al cuore mi devasta l'anima una roba così orribile di border gore invece di combattere per una causa persa il sultano si è arreso e il suo registro è stato annesso dio grazie hanno fatto hanno fatto la scelta corretta ragazzi il confine si è autosistemato il che mi dà da pensare che forse potevo tenere le mani in tasca e la situazione si andava a sistemare da sola comunque per fortuna è che è successo qualcosa perché mi stavo un po' rompendo le palle tra l'altro loro qua si stanno espandendo una mia oppressione non lo so che dirvi sono un po' preoccupato perché per me li ha città per me li ha città io avevo espulso la scandinavia dalla spagna e poi l'avevo abbassata cordiale dopo poco tempo me la sono trovata di nuovo a friendly com'è possibile com'è cazzo impossibile il gioco qua mi sta facendo trascimo tra l'altro abbiamo perso un paio di posizioni perché eravamo no non sono mai stati quarti eravamo in quinto è arrivato il jabbone in gamba tesa che è un po' figa c'è un'esercito della madonna l'industria madonna l'unica cosa che gli manca è il prestigio cosa stanno facendo stanno vivendo il sogno di qua in effetti non me ne ero accorto probabilmente stanno vivendo il sogno lì ma tant'è vado ancora un pochino avanti perché dobbiamo avvicinarci il più possibile al 1880 per concludere con la guerra nel nord Italia che ci stanno mettendo una vita anche loro a fare quello che devono fare all'effettivo non è neanche malaccio che il Giappone stia qua perché la Provenza non deve superare Mosca e Belgian Confederacy perché se no diventano anche la Lombardia anche la Lombardia se diventa una grande potenza ma se no diventa sapete che roba forse non è neanche male però diventi al volo così possiamo farle la guerra ed eliminarla una volta per tutte perché mi hanno rotto i coglioni spero anche in qualche altro evento di questo tipo e spero soprattutto che la nostra industria parta in qualche maniera io sto investendo adesso un po' anche in clerks che non ne avevamo e dovrebbe aumentare un attimino quanto guadagnano le nostre aziendas continuiamo a aumentare la produzione del legno tra l'altro stavo pensando di andare a prendermi qualcosa qua ma ho notato che la Borgogna sta andando full guerra qui sotto eccetera eccetera quindi lasciamo perdere ci hanno parato fuori da Tutunjin perché boh e avrei potuto dichiarargli guerra o tankarmi il prestigio perso però visto dove sono ho detto vabbè si fottano ok anche noi ci fottiamo basta te nelle nostre bellissime colonie basta te nell'Italia-Aragona ci si fotterà però invece qua su Madurai voglio tenere botta adesso arriverà fra poco la metremisfera al massimo ho pensato uso i porti spagnoli che sono abbastanza vicini sto costruendo un po' di ferrovia anche per fargli piacere e useremo loro per far avanti indietro nel caso che questi ci scaccino quindi occuperemo la zona con violenza inoltre siamo in rientra visto che non so che cazzo fare mentre sono ritornato in guerra con gli africani del NRI e stiamo andando a sparacchiare un pochetto sulle loro facce giusto per portarci a casa qualcosa qua c'è un bel po' di legna tecnicamente c'è poca gente in verità però c'è la legna quindi ci portiamo a casa quello io direi che un paio di fucilate dovrebbero bastare andiamo a occuparli infatti cosa? ci sono sempre più prove contro il partito ah ok problemi c'è stato uno scandalo si hanno vinto bene tici prestigio me lo becco nel culo subito così ma tant'è tanto prestigio ne abbiamo un sacco hanno vinto in qualche maniera i conservatori e adesso c'è ovviamente uno scandalo perché prima erano gli liberali no? però prima di fare le election io qua posso sbizzarrirmi Gnari mi hanno appena non me ne ero accorto che questi davano la possibilità di fare quello che io penso mi desserò la possibilità di fare questo è molto nice qua c'è il grano e qua c'è le pegure e anche qua c'è il grano io qua Gnari Gnari qua immediata subito ci facciamo bottling works build vai così prima che cambi il partito così non ci metto bocca a mano io texil mill serve il cotone dai quelle arriveranno di importazione intanto cerchiamo di tenere botta così e anche in campania magari altri bottling perché tanto qui che cosa hanno? questo coso qua sta in mezzo al cazzo dell'uva sì salerno dai salerno altri bottlings bottling works e qualcos'altro qui vabbè top top tirati dentro sono quelli qualcos'altro non mi viene in mente cos'è che sta andando di so che c'è non si può vedere qua vediamo beverage e noi produciamo united demands united demands anche di vestiti i vestiti con cosa si fanno con quella roba là che noi non produciamo però adesso se riusciamo metti caso e allora sapete che in campania io gli butto dentro davvero una clothes factory speriamo bene e speriamo bene poi iniziamo a pompare dentro anche i tizi giusto per se volessi approfittarmene cosa che ci manca anche le scragne le facciamo i vestiti belli ho visto che qua c'è del silk serve il silk per fare i vestitini bellini yes vai e basta e poi facciamo gli avversi delle lezioni del cazzo tanto noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto eccetera eccetera e niente signori questa puntata si chiude così con questa nota positiva comunque perché abbiamo spammato qualche azienda noi che invadiamo l'NRI per fregarci un po' di legna e boll 1870 che spero si avvicini velocemente perché 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 lo sapete il perché vi saluto ragazzi alla prossima sperando sia un pochino più vivace per la prossima e Grazie a tutti.